Questo è un tema, Ken e Reteghi sono i migliori per colattesi tutt'ora, quindi sono in over performance, hanno segnato anche di più dei colattesi, però sono comunque i primi. Quindi vuol dire che Atalanta e Fiorentina sono state le migliori squadre a mettere in porto i propri attaccanti e loro due sono stati bravi a crearsi le occasioni. Perciò quando mi chiedono, ma che faccio, Ken o Lautaro? Ken o Lukaku? Reteghi o Kwaraskega? Io al momento faccio fatica a dire Reteghi e Ken dateli via, perché hanno una tonnellata di occasioni. Per vincere il Fanta, non lo conosciamo, non siamo bravi abbastanza, suoli Fanta. Una puntata speciale, una puntata in cui gli otto minuti di introduzione diventeranno l'ora intera di registrazione. Una puntata in cui se io mentre faccio l'introduzione, Nick preme il pulsante applausi, Nick muove la tazza e fa casino nelle cuffie. E non ci interessa, perché è una puntata così, è una puntata speciale in cui scoprirete la profondità dell'animo di Samuele e di Nicholas. Ciao, Nick. Ciao, Samuele. Allora, abbiamo fatto questa puntata perché abbiamo dato un'occhiata ai dati, si può ovviamente da proprietari del canale andare a vedere qual è il watch time del video. E noi ci siamo resi conto che i nostri video che durano 1 ora e 20, nonostante voi abbiate scritto, sì, fateli durare di più, fateli durare 3 ore, fateli durare 18 ore. Ci siamo resi conto che, arrivati al minuto 8, crolla. Sì, è vero. Quindi voi state con noi per i primi 8 minuti. Sì, è quello che piace di più. Abbiamo detto, perché non facciamo 8 minuti più volte nella stessa puntata? Sì, sarà una puntata divisa in questo modo, di 8 minuti in 8 minuti. Ne basso un po' altrimenti divento belotti. Ma in generale, insomma, sarà una... Carina. Ma in generale sarà una puntata in cui veramente parleremo di... Abbiamo letteralmente gli argomenti. Vai. Allora, il primo argomento è quello della community, nel senso che i vostri messaggi più intimi ci hanno toccato il cuore. Non troppo, non troppo intimi. Ci hanno toccato proprio il cuore. Il secondo argomento è quello dei nostri fatidici consigli sbagliati. Aspetta che qua ci sta questo. Sì, un argomento delicato. Il terzo argomento è quello dei pensieri sulla vita, in generale. Il mio preferito. Il quarto sono i fenomeni paranormali, ok? Ci arriviamo. Questa è una parte addirittura sponsorizzata da un brand? Sì, sì, sì. Poi le lacrime e i singhiozzi. Questa non l'avevo letta, ma non so cosa aspettarmi. Poi il calcio e poi il fantacalcio. Applausi. Una grande scaletta. Il calcio e poi il fantacalcio. L'ultimo tre minuti. Facciamo due premesse. La prima, nei commenti la percentuale di domande è stata bassissima. Sono quasi tutte considerazioni vostre che ci avete voluto dire. Letteralmente vi abbiamo chiesto delle domande. Avete totalmente ignorato la comanda. Ma proprio per questo motivo mi ha fatto piacere leggerla, insomma. Sì, è importante. Possiamo leggerla in due modi. Uno, non sapete leggere la consegna. Quella che a scuola era fondamentale per capire la trama e poi avere un bel voto. Due, non avete niente da chiederci. Abbiamo detto tutto. Sono quattro anni che registriamo il podcast. La seconda premessa è che magari non prenderemo tutti i messaggi. Probabilmente non ce la faremo per la durata della puntata. Se non dovessimo farcela, pazienza, mi dispiace. L'altra cosa è se invece dovessimo farcela troppo presto, la puntata venisce dopo mezz'ora, o le eduopzioni, o stiamo zitti per mezz'ora. No, no, continuiamo a chiacchierare però di Roma è nostra. Ok. Va bene, cominciamo con la sezione community. La prima domanda che leggiamo... Hai un jingle per questa sezione community? Servirebbe un suono che non troppo fastidioso. Allora, heartbeat. No, no, drumbeat. Vai. Cazzo, bravo! Bellissimo, lo faremo. Non mi chiuso così, secondo me. Se non è che voglio... Non si sa neanche chi l'ha fatta. Di sicuro non Phil Collins. No. Community, la prima domanda che leggiamo oggi è Marco Gentile che ci chiede, vi prego, ridateci gli sconsigli, nulla ha più senso senza. Senso senza. Con la Z o con la S? Senso senza. Senso senza. Tipo Ken Fed Sena. Sì, insomma, poche parole per riassumere la domanda di Marco Gentile. Questa puntata già vi piace. Rivole gli sconsigli. Allora, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate. Io ti chiedo, rifacciamo gli sconsigli? Mamma, non se ne parla proprio. Come mai? No, no. Guarda, te lo dico nella settimana in cui sta ritornando in auge il mio video su Ken estivo. Te ne parlavo prima. Di metà luglio in cui dicevo, lo dico, lo dico, Ken può arrivare in doppia cifra. Ok, Ken è arrivato in doppia cifra. Bene, bravo Nicolas. Però ho parlato anche di Belotti io. Quindi, te lo dico nella settimana in cui un mio video su una predizione è andato bene, che non voglio fare predizioni di quel tipo. È troppo rischioso e quello che ti dà invece in termini di benefici è troppo basso. Quindi, no, non li faremo. Allora, onestamente sono poi solo simpatiche le clip e i commenti alle clip. Delle persone che ovviamente non seguono il podcast e ci stanno e che devono seguire il podcast le persone. Alcuni sono cattivi e vabbè, lasciano il tempo che trovano. Altri invece sono creativi. Sì. Negativi, ma creativi. E quelli sono simpatici. Quelli mi mancano. Samuele Cerutti ci chiede, ciao, mi chiamo Samuele e sono tre giorni che non faccio all-in sulla Roma. Sono romanista e un giorno in palestra ho avuto pensieri impuri sullo schierare pellegrini con Dovbic Ermoso. Sono riuscito a trattenermi e da allora non ho più paura. Vabbè, Juric è stato esonerato. E ce ne sono stati altri commenti che davano noi la responsabilità dell'esonero di Juric a questo punto. All-in Juric. All-in Juric, venivamo da due settimane di all-in Roma e alla fine forse anche davvero per questo motivo sta diventando un po' inquietante anche la questione, sconsigli che fanno con l'in maniera assurda. All-in Roma con conseguente esonero di Juric. Mi sono reso conto, e questa cosa è vera, le mie parole sto cercando di dosarle molto di più. Perché hanno effetto. Sì, secondo me, non so le tue, anche se all-in Roma mi sa di sì, secondo me le nostre parole possono avere un effetto catastrofico sull'umanità. Un effetto farfalla? Sì, sì, perché magari faccio un esempio. Diciamo una cosa all-in Roma, no? La vede un ragazzo che si chiama Tommaso, a Roma, ascolta la puntata, e va da un altro ragazzo che si chiama Sers, che magari è un parente acquisito del figlio di Juric, che gli dice al padre, guarda, facciamo, insomma, sta andando bene, Samuel ha detto questa cosa, Juric poi gli prende un attimino di ansia da prestazione, di conseguenza alla squadra, che fa male in campo. Magari no, sicuramente non accade, però metti caso che è realmente accaduto? Non lo so. Ma, ma, questa è una bella considerazione per il tema dei video che vengono visti dai protagonisti. Ok. Perché i video vengono visti dai protagonisti. Su questo non c'è dubbio, tutti i ragazzi hanno i social, tutti i ragazzi, alcuni giocatori si girano i nostri video durante l'estate per il fantacalcio. Non so di per certo perché mi è stato detto dai diretti interessati. Quindi sicuramente le nostre parole arrivano, che è il motivo per il quale dobbiamo essere sempre molto... Rispettosi. Rispettosi, sì. Non dico neanche cauti, ci sta a farsi prendere dall'emotività. È bello parlare di calcio perché è emozionante, però rispettosi. Perché sono ragazzi come noi. Noi stiamo facendo il nostro lavoro e loro lo fanno nel loro modo. Nessuno ci giudica continuamente, mentre noi tendiamo a giudicarli. Fa parte del gioco, eh, fa parte del gioco. No, invece ci giudicano continuamente, letteralmente. Invece ci giudicano. Noi sì, ma dico gli altri lavori, quali più normali no. Ah, ok, ok, ok. Però è anche vero sulla questione, modo in cui si parla dei giocatori e degli allenatori e delle dette lavori, che proprio perché si parla così tanto, gli ingaggi sono così alti poi a un certo punto. Perché si parla, si vende di più il prodotto, eccetera, eccetera. Quindi poi alla fine i protagonisti che fanno vendere il prodotto guadagnano di più. Mi ne inviedono, ho capito. E hanno... Ci hanno giocato su. Passiamo alla domanda di Emerald Dragon. Unico rimpianto è il non vedervi più postare all'ora di pranzo. Devo addirittura saltare la prima lezione in università del giorno per seguire il podcast ormai. Perché esce la mattina del giovedì. Sì, però prima quando usciva, scusa... A pranzo. Prima usciva pranzo il giovedì, sia quando era zona fanta, sia... Eh, ma lui non potrebbe aspettare allora. Infatti uno mi ricorda una risposta, gli scrivono, ma perché non aspetti l'ora di pranzo? Eh, potrebbe. Lui non ce la fa. Cioè, lui vede l'uscita, bisogna di vederla subito. Ti capisco. Che ci sta. Che ci sta. Tu ci riguardi? Tu tu riguardi la puntata? Eh, talvolta. Non sempre. È brutta? No, 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 mi diverto sempre, però a volte mi rendo conto che mi diverto su alcuni inside joke che creiamo noi, che però capiamo soltanto io e te. No, dai, secondo me sono abbastanza capibili. A volte abbiamo parlato delle cose da Conquilini che non sapevo neanche io. Non ti avevo ancora detto. A proposito di cosa non sapevi tu, ci scrive Giuseppe Vetere Pericolo Kostantic, riferendosi alla Turbica Supadalice. Tutto vero, tutto molto bello, quando il signor Mandarolo diceva quest'estate però tutti a ridere, ora tutti sul carro Mandarò. Non l'ho scritto io, l'ho scritto Giuseppe. È un mio amico Giuseppe però. No, non lo conosco, però grazie Giuseppe. E niente, ma noi non abbiamo mai litigato per questo tipo di dinamiche del tipo tu che tipo faccio un esempio, noi potevamo litigare sul, quando c'erano gli sconsigli, tutta la community era salita sul carro Nicolas, votavano sempre te. Avremmo potuto litigare, però non abbiamo mai litigato per questo tipo di dinamiche. Credo che secondo me siamo bravi a dare la giusta importanza alle cose. Mi sembra di capire questo. In realtà poi, io ho perso gli sconsigli per la fine, mi sa che ho perso 4-1 e la community ha perso con me, quindi siamo affondati insieme come il Titanic. Bene, godo. Aldo Iacobucci dice, è statisticamente provato che una puntata che comincia con gli effettini in sottofondo sarà una puntata con consigli azzeccati e quindi Roma-Bologna 11-0 all in nel Roma. Vabbè, a parte l'ultima parte che non è accaduta realmente perché la Roma ha riperso, però secondo te... Però io l'ho detto... Tu non avevi... Pasolini e Cast. Sì, 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 io infatti non l'avevo fatto lì in Roma, però comunque a parte di questo, gli effettini, secondo te hanno un effetto sulla puntata? No, nessuno. Sì, la rendono sicuramente più gradevole, dinamica, colorata. Dovremmo registrare degli effetti molto più nostri, lo diciamo da due mesi, però il tempo passa e mancano 26 giornate di campionato. Riccardo dice, bravi ragazzi, complimenti per le vostre analisi, vi guardo sempre, ma fantacalcisticamente non vi ascolto mai, preferisco sbagliare da solo, continuate così. Ah, quello è giusto? Ci sta, sì, sì. Giustissimo, infatti ci sarebbe secondo me da capire, magari faremo una domanda, non tanto questa volta che già vi abbiamo stressato chiedendovi tanti commenti, però magari prossimamente, quanti di voi poi mettono in pratica i consigli che diamo? Perché magari alcuni sono semplicemente interessati alle argomentazioni calcistiche, analisi, eccetera, e poi magari o non lo fanno o al massimo mettono una formazione a caso. Sarebbe da capire, molto interessante. Di base, quando ho il piacere di incontrare ragazzi che mi fermano e mi dicono, Nick, bello il podcast, ci è capitato anche recentemente in metro, la cosa che ci dicono più frequentemente è, sì, vi ascolto per la compagnia, perché è bello, poi però la formazione la metto per i fatti e-mail. La realtà è che, secondo me, il tipo di prodotto è utile perché magari l'utente che gioca al fronte a calcio non ha voglia di vedersele tutte le partite o la maggior parte e quindi magari noi ti diamo una mano perché abbiamo visto una cosa, ti riportiamo un numero e ti serve per la tua lettura per la formazione. Più che altro è quello. Infatti quando, il caso di Ken piuttosto che Belotti, quando c'è un'analisi su un giocatore non è un io ti sto dicendo di prenderlo secondo me lo devi prendere per forza, ma tu hai una tua valutazione, tieni la mia, che ho fatto uno studio, magari è sbagliato, ci può stare, però tieni la mia, che magari o ti completo la tua oppure ti do una mano per essere più d'accordo con te stesso e più in disaccordo con me. Però almeno in qualche modo dobbiamo essere utili. E secondo me noi, con la compagnia di fondo, con... ma anche con... Passando per... Insieme! No! Siamo utili. Questo è fastidio. È dato noi, a te, o sono io con le cuffie alte? Sì, ho le orecchie sensibili. Ma lui è un tipo sensibile. Ho le orecchie sensibili. Daventa invece va subito, non ti dico controcorrente perché non è vero, ma ci dà un'altra lettura sul perché guardare la puntata. Sarebbe? Prima di mettere la formazione, devo assolutamente vedere tutto il video, ormai siete diventati i miei amuleti. Sì, sono scaramantico. Pura semplice scaramanzia. Ci mette lì sottofondo, è andato a fare le sue cose. Quando finisci, neanche se ne accorgi, è già partito tre video dopo, sono già andati in fila. Ecco perché in realtà quando ho visto i dati che citavo prima, c'era sì, watch time, otto minuti. E poi uno. E poi uno che... che partiva per la tangente. E sei tu. Era Daventa55 che ovviamente ringraziamo. Allora, io adesso ti faccio vedere questa domanda. Tu mi dici... Aspetta che... Come si chiama il ragazzo? Daventa55. Dave, lo chiamiamo Dave. Dave. Vabbè. Dave. Allora, se ti va, metti la playlist OnlyFanta così scorre. Sì. C'è un bel watch time. Consigliata prima di andare a letto per addormentarvi. Sì. Questo è... Ti posso chiedere se posso leggere questa domanda? Aspetta che ti racconto questa aneddota. Sì, sì, sì. La possiamo leggere? La possiamo leggere. Però fammi raccontare prima quest'aneddoto a proposito di persone che si addormentano guardando i video su YouTube o su qualsiasi cosa. Ad esempio, Lisa, la nostra amica, si addormenta guardando video tipo di giochi, ok? Oppure video di un suo amico zanno che fa FIFA e quindi guarda quelli. Un altro mio amico, grande, ha più di trent'anni. Non me ne vogliate, over trent'anni, però. Noi siamo ancora giovincelli. Grande, vecchio. Si addormenta guardando le live di un tale Hollywood, che è un ragazzo che fa delle stream parlando di FIFA. È un pro player, anche un allenatore del nazionale, mi sa, della nazionale dei giocatori di FIFA. Una volta si è addormentato, si è svegliato durante la notte e però la live era finita e si è postato sulla live. Sai delle ragazze in piscina su Twitch? Ah, ok, sì, ci può fare. E c'era la ragazza accanto. Era la ragazza accanto. E lei si stava vedendo? Eh, nì, però sarebbe stato strano. Sicuramente una cosa pericolosa da non fare. Meglio la playlist non le fan. La playlist è importante. Fondamentale. Allora, Fabio Perego dice Hype pazzesco sulla cena di Milano. Svelate la data durante la chatteria nella puntata di recupero. L'hai letto il mio messaggio sull'argomento? L'ho letto il tuo messaggio sull'argomento. Tu settimana prossima non ci sei soltanto il martedì. Quindi, signore e signori, hai un... Mi sembra quello giusto. Signore e signori, la cena Ollifanta. Questa è la settimana in cui non ci sei solo il martedì, giusto? Sì, è quella sotto, quella dal 18 al 24. La cena Ollifanta si terrà giovedì 21 novembre a Milano. Giovedì 21 novembre Milano alle ore 8 e 30, quindi 20 e 30 da Miyoshi. Detto Gianni soltanto da noi, da Miyoshi. Vi lasciamo i riferimenti nel commento, nel primo commento di questa puntata su YouTube. Se ci stai ascoltando su Spotify, vai su YouTube perché su Spotify non possiamo lasciarlo. Potremmo lasciarlo in descrizione? Sì, ma Samuele è un pochino pigro. Quindi... No, lo lasciamo in descrizione. No, lo lasciamo in descrizione anche su YouTube. Siamo sinceri, lo facciamo, ci saremo lì. Allora, noi siamo lì. Chi vuole venire, venga. Chi non vuole venire, non può venire. C'è bisogno di metterlo sul calendario, lo ricordo io dopo. Stavo mettendo sul calendario. Noi non offriremo niente, perché è un sushi, è un all you can eat, di medio-bassa qualità. Sì. Media. Media. Si sta... È buono. Media. È buono. Media. Noi non ci potrete derubare, perché avremo soltanto i soldi per la cena. Non ci vogliono derubare. Sì, ma metti caso che... Ok. Questo video lo sta guardando un ragazzo che vuole venire a cena con noi. Sì. Invidia un suo amico. Il suo amico lo sta guardando con un altro amico in metropolitana. Che vuole derubarci. Però vabbè. C'è sempre qualcuno che vuole derubare. Quindi mettiamo delle regole. Vietato derubare. Né noi, né altri. Non offriamo assolutamente niente. Se volete offrirci la cena. Sì, ma forse Samue offre il limoncello alla fine. A te. A me. Allora. Vuol dire che il limoncello di... È particolarmente di un colore radioattivo. Matteo Sim. Ci vediamo da Gianni. Non è colpa del fosforo, Nick. Mi sa che non ci siamo proprio presentati. Scusa l'assalto sul treno. È bravi come sempre. È il ragazzo che ho incontrato in treno, sì. E sai che si chiama Matteo Sim. Si chiama Matteo, sì. Matteo Sim. Sì, e fa... Lavora per una compagnia di telefoni. Riccardo Crippa. Guardare tutto... Ah, per la Sim, scusa. Scusami. Sono bravo io. Sei stato carino, sì. È colpa mia. Scusa se non l'ho capita. Adesso l'ho capita. Riccardo Crippa. Guardare tutto il podcast secondo per secondo solo per scoprire i nomi ai saluti finali. Che magia. Obiettivamente. C'è anche chi ci ascolta per questo motivo. Potrei dare un trucchetto. Andare direttamente in fondo. Ma no, ma... Però non va contro il nostro interesse. Anche perché poi molto spesso i nomi in fondo sono legati alla puntata. Non capirebbe mai. No, è bello perché tu puoi fare così invece. Parti dalla fine. Ascolti i nomi. Ti chiedi il perché vai all'inizio. È come vedere una serie tv dalla fine e ti chiedi tutto il percorso che hanno fatto i personaggi inizialmente. No, parti dall'inizio. È meglio. C'è pure la sigla. Francesco Tenerilli dice... Si può dire che fra gli innumerevoli pregi avete dei tempi comici pazzeschi. Secondo me lo puoi urlare mentre ascolti questa puntata. Non lo so perché è un qualcosa di difficile da avere. Ma è anche soggettivo. No, no. I tempi comici non sono soggettivi. I tempi comici ti accorgi di quando uno ce l'ha proprio. Secondo me tu ce l'hai un sacco come cosa. Ma se io ho un umorismo diverso? Che ne so. Magari per me i suoi tempi comici non fanno ridere. I suoi sì. Ok. Il tempo comico non è definito è definibile ma ti accorgi quando c'è. Sì. Ok. Tipo Tony Bongi ha dei tempi comici totalmente diversi da Ficarre Picone. Oltre ad essere il miglior comico di tutti i tempi Tony Bongi. Tony Bongi fa ridere, sì. È diverso ma ti accorgi che è perfetto. Sì. Detto questo. Quando, per rispondere ragazzo, quando ogni tanto Roberta ci ascolta, Roberta la mia ragazza ci ascolta a parlare al telefono, non capisce quando stiamo scherzando o no. Eh no, quello è un problema a volte secondo me. Eh sì, perché non c'è una conversazione serie. Non c'è. La nostra ultima conversazione serie è stata quando? Eh. Non lo so. Forse neanche consigli. Allora, Alessandro Cameron. Siete i migliori. Dovrei studiare storia e dire la verità ma ci sono cose più importanti. Noi lo ringraziamo. La geografia. Alessandro. Vero anche. Molto utile. Andrea Micheli. Per il meme, la prossima volta potreste partire senza gli otto minuti di chiacchiere e invece iniziare subito senza manco presentarvi con la prima partita. Secondo me la possiamo fare. Sì. Presentiamo dopo la prima partita. È una bella idea, Andrea. Ce ne scorderemo perché non ce la stiamo segnando. No, sì, anche perché se questo episodio è fatto per unire più otto minuti, per le prossime otto puntate circa non dobbiamo... Sì, dividiamo questa puntata per otto e sappiamo quante volte ci sta. La farmola sarà anche un meno uno alla fine. Michi Leaks. Ci starebbe una rubrica di classifica tra i bomber di provincia. Che poi alla realtà, Michi, noi consigliamo quasi solo quelli. Almeno io personalmente mi... Se i top non li consigliamo mai. Quando li sconsigliamo fanno gol. Senti, sì. Claudio Sarno. Che bello ascoltare questo video prima di un esame. Il buon Claudio che ci scrive spesso per gli esami e quindi... Gana Claudio. Non si molla mai. Il mindset è fondamentale. Jonathan Teodorani. Bella puntata, bravi ragazzi. Quindi adesso è una raffica di complimenti finale. Aspetta, ma siamo dei... Noi siamo dei bravi ragazzi o siamo stati bravi, virgola ragazzi? Bella puntata, bravi ragazzi. No, dice noi che siamo bravi ragazzi. Sicuramente siamo delle brave persone. Filippo Messesi. Oh, io il commento lo lascio, però parlate qualcosina anche di Fante nella puntata speciale. Sì, arriviamo. Sì, arriviamo. Un minuto. 45 minuti. Ale Viola, ma perché? Questa è bella. Ale Viola dice, ma perché usate le cuffie? Lo sai che me lo chiedo sempre anch'io. Allora... Non c'è un cazzo di motivo. No, c'è il motivo. Il motivo è che è bellissimo riascoltarsi e ascoltare la voce dell'altra persona in cuffia. Ti senti molto più coinvolto nella... nella chiacchiera. Toglitele. Guarda che brutto. Beh, io ti sento, parlo e non ho grossissimi... Sì, ma non ti risenti. Sì, ma chi se ne frega? Io non mi sento in puntata così. No, cioè... Eh vabbè. Non cambia niente. Sarà che io ho fatto per 12 anni il produttore musicale, quindi... Vabbè. Eh, però io c'ho... Io qui ho la... Che capello ho? No, perfetto. Io qui ho la musica, eh, comunque. È per questo. Ah, è per quello. Mi sono messo la musica. Che ascolti? Eh, Taylor Swift. Eh... GodSante, dell'ultima domanda community, vi piacerebbe fare uno studio analisi sulla serie B? Aspetta il primo giugno. Solitamente io faccio un studio analisi che copio da lui, che ha visto le partite di serie B, per il Bari. Prossimo anno studio serie C. Allora... Ti azzardare che siamo sesti. Sto scherzando. Non ti azzardare che siamo sesti. Sto scherzando. Sto scherzando. Adesso non è una frecciata. Non è una frecciata ovviamente su Bari, che io adoro, è la mia seconda città preferita. Dopo? No. Dimmi Nal. Hai ragione, forse è la mia prima città preferita, però era proprio da ne giro lui. qui. Allora, passiamo ai consigli sbagliati. Tema caldo. Cosimo De Monte... Ah, no, aspetta. Basta, mi era venuto a noi. No. È bellissima. È un piatto finale. Cosimo De Monte, consiglieremo Gallo quando sarà opportuno. Meno male che faccio l'opposto di quello che dite. Prendiamoci questo sette e mezzo. E Tommaso dietro. Io invece gli ho dato retta. Mannaggia a me. Abbiamo fatto fare assist a Gallo. Un altro ragazzo che ho letto, magari non l'hai preso, dice... Aspetta, c'è una serie su Gallo. Ah, ok, vai, vai. Ho una serie su Antonino Gallo. Luca Maio. Consiglieremo Antonino Gallo quando siamo sicuri del gol o assist di Antonino Gallo. Era palesemente da schierare su. Ho anche guardato in camera. Adesso se non mi conoscete è colpa vostra. Aspetta, Marco Righi. Voglio il mea culpa per non aver creduto nell'assist di Gallo. C'è un sacco di robe su Gallo. E quindi qual è la tua risposta? La mia risposta è che semplicemente... Tu l'avevi consigliato implicitamente. Ho guardato in camera. Andate a vedere l'episodio. Potrei... Se andate a vedere l'episodio, prendete lo script dell'episodio, tutte le parole che abbiamo detto. La prima lettera di ogni frase è A-N-T-O-N-I-N-O-G-A-L-L-O. Fa assist. Fa assist. Bello. Non ce lo sai che non dovevo capire neanche io questa? Era difficile. Andrea Morosini. Potete fare tutte le analisi che volete, ma il vostro problema è uno solo. Siete dei romantici. Credete nei campioni che si riprendono e nelle pippe che si riscattano. Io per questo vi seguo. La cosa, secondo me, reale è che non siamo romantici, ma siamo seguaci dell'underperformance. Quello è il punto. Crediamo ciecamente in questo concetto perché l'abbiamo studiato, ma più che altro ci sono un sacco di... Cioè, gli studi statistici dicono che per la maggior parte dei giocatori, i gol e i gol attesi, quindi le occasioni avute, generalmente tendono a livellarsi. Sono pochi i fenomeni... Almeno nel medio periodo. Almeno nel medio periodo. Non per forza durante il corso di una stagione, ma anche un po' di più a volte. Ci sono alcuni fenomeni, tipo Leo Messi, che vedeva negli ultimi dieci anni il giocatore più in overperformance al mondo, che ovviamente battono i gol attesi anno dopo anno perché sono bravi a segnare da posizioni anche difficili, eccetera. Però generalmente si livellano. Quindi crediamo che se un giocatore ha tante occasioni, perché tatticamente la squadra lo mette in condizioni buone per segnare, vuol dire che prima o poi il gol arriva. Molto spesso quando arriva, vedi i pellegrini l'anno scorso, arrivano tutti insieme. Perché è proprio un fattore mentale lì. Il giocatore si sblocca, è più libero di calciare, di tirare. Noi crediamo nell'underperformance che si compensa. È il romanticismo, forse il romanticismo dei nostri giorni. Il romanticismo statistico, quando si dice che il dato è roba fredda e asettica, invece no. Sulla questione statistica, io dico che però l'overperformance o l'underperformance deve essere sempre contestualizzata. Adesso Kerstovic è in underperformance, calcia tantissimo ma ha segnato poco. Ma adesso ha cambiato allenatore, quindi è un discorso che magari continuerò a fare statisticamente, lo considero come dato, però devo un po' depotenziarlo proprio perché adesso è cambiato il contesto. Che farà Gianpaolo con il Lecce? Che ne so. E invece, conoscendo bene il Lecce di Gotti, avrei comunque potuto continuare a credere che Kerstovic avrebbe continuato a calciare e che se il Lecce mi avesse dato dei segnali positivi, avrebbe anche segnato qualche gol in più di quelli che ha segnato adesso per riequilibrare l'attuale underperformance. Quando cambia il contesto bisogna azzerare azzerare tante cose, tra cui, non dico azzerare la questione statistica ma quasi depotenziarla, quello sì. Sono d'accordo. Poi ci sono alcuni fattori un po' più particolari, tipo quello che dice Samuele Corso, appena Nick ha nominato Morata, subito dopo mi è arrivata la notifica del trauma cranico subito, grazie a Pavlovich. Ma questo è il discorso che dicevi tu prima, delle nostre parole, dell'effetto farfalla. Infatti sono inquietanti, davvero inquietanti. Sì, che stavamo dicendo? Ah, la questione è overperformance e underperformance. In realtà io sto notando tantissimi video, tantissimi articoli, pezzi, in cui la questione statistica viene utilizzata e sono contento, però anche a volte in modo un po' superficiale. Ci sta perché il dato è difficile da andare ad analizzare. Io credo di aver commesso anche tanti errori nel corso degli anni, però poi continuando a masticarli ti rendi conto quando puoi utilizzarli, quando non ha senso farlo. E quindi andare a vedere adesso che un giocatore con 400 minuti è in underperformance non significa niente, niente, perché i minuti sono importanti legati alle statistiche che registri. Ad esempio un Douglas Lewis che adesso ha ancora 400 minuti giocati su 2000 di campionato, insomma 1500-1600. 400 sono veramente pochi sui 1600, per dire adesso potrà andare a fare qualcosa di diverso. Li devi, secondo me ne puoi parlare, puoi parlare di underperformance, puoi parlare anche di XG, se però poi riflettono ciò che hai visto in campo. Per esempio Douglas Lewis, quando ha giocato trequartista, si è trovato due volte davanti alla porta a calciare di testa. Stesso discorso Gaetano nel Cagliari, quindi deve partire ovviamente da ciò che hai visto. Bravo, sei anche Gaetano. Quel giocatore lì è stato in porta tre volte e ha sbagliato, vai poi a vedere il dato, vedi che è netta underperformance e dici ci si può aspettare che se continua a giocare in questo modo possa iniziare a buttare là dentro. Magari non deve per forza recuperare l'XG di cui si parlava, però perlomeno segnare sì. Ce ne sono tanti di giocatori di questo tipo che in base ai minuti anche bassi creano tanto. Vessino ad esempio, Pasalic, anche se ha sempre giocato un po' di più di tutti questi citati, però Pasalic, eravamo convinti anche inizio anno, l'abbiamo detto anche prima, avrebbe segnato tanto anche da non titolare, perché i titolari erano Deron e Ederson a centrocampo, con tanti trequartisti. Però sai che il contesto è lo stesso, l'allenatore è lo stesso, il minutaggio che avrà è lo stesso, quindi si può pensare che anche la produttività può essere la stessa. Ma Gaetano, stesso discorso anche per Vessino, che abbiamo sempre detto che il contesto tattico poteva essere buono, il Gaetano di turno, che per me è un giocatore forte, io adesso continuo a non collocarlo bene nel Cagliari, perché proprio non si capisce dove viene messo, quanto viene schierato, come gioca il Cagliari, è sempre un po' diverso partita per partita, e quindi anche se i dati di Gaetano sono buoni, io adesso non sono pronto a dirti, Gaetano farà sicuramente i gol che io credo possa fare in Serie A. Cioè Gaetano trequarti nel Parma, 4-2-3-1, 7-8 gol te li fa per forza, ma perché è un giocatore forte, lo vedi, anche nel Cagliari adesso, quando entra fa bene, il problema è che non sai, quando entra, se entra, in che posizione entra, in che situazione di partita, sta perdendo 2-1, sta perdendo 2-0 il Cagliari è complicato avere dieci minuti quando sei sotto 2-0. E quindi le statistiche sì, però tanto alto. Giusto, su questo sono stra d'accordo. Gigi, ho preso Spinazzola, Love2Cic e Fabian come titolari, adesso ha malapena, giocano e zero bonus. Allora, c'è cambio tattico per quanto riguarda l'utilizzo di Spinazzola per il Napoli. Sì, 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 sì. Cambio tattico anche più o meno per quanto riguarda Love2Cic, forse un po' meno, perché lui potrebbe comunque giocare anche con Morata, quindi forse quella è anche un po' più una scelta tecnica. E Fabian è più o meno uguale. Sì, sono tre casi brutti, ho preso Love2C, ho preso anche Spinazzola e non Fanta, sono rimasto un po' più a bocca asciutta. Allora, Spinazzola, c'era un po' il sentore. Ma io ti dico, sono sincero, mi aspettavo 3-5-2 e Spinazzola titolare. 3-4-2-1. 3-4-2-1 e Spinazzola titolare. C'era una cosa che non mi inconvinceva al 100% e che era la possibilità di Oliveira di fare sia il terzo che l'esterno. Sì, magari mi immaginavo Oliveira, però c'è Buongiorno. Erano Di Lorenzo Buongiorno e Rachmani. Vabbè, sul Napoli in realtà ci si potevano fare tante letture e Maconte ci ha sorpreso. Ci ha sorpreso perché poi adesso sta costruendo con i quattro, che sono Oliveira e Di Lorenzo come terzini, ma ha difeso tanto tempo a 5, ma il quinto di destra, Politano, e pensare quinto di destra Politano è molto coraggiosa. Piuttosto Di Lorenzo, quinto, Rachmani, Buongiorno, Oliveira, Spinazzola. Così aveva senso a 5, capito? Di Lorenzo, Spinazzola. Uno un po' più bloccato, uno che parte. Invece Conte ha voluto metterci un esterno, un'ala pura. L'Oftus? L'Oftus-Cic io credo che con il 5-3-2 che adesso sta provando con più frequenza Fonseca, o 5-4-1, servano i tre centrocampisti veri, di cui uno, anche quattro, di cui uno può essere Musa che fa il quinto. Non ci credo a questa cosa. Eh, servono. Fofana, Reinders e L'Oftus-Cic. Pulisic-Leao? Uno fuori? No. L'Oftus-Cic che gioca tutte le partite comunque, non sempre da titolare. Invece è capitato anche che l'Oftus-Cic sia stato inutilizzato, è vero che c'è stata la Champions. Sì, sì, a volte c'è stato inutilizzato. Però io non mi capace, come un giocatore che ha fatto 10 gol l'anno scorso, importantissimo, possa essere veramente così inutile, perché è quello che ci sta dicendo un po' Fonseca adesso, per risolvere i problemi. È un centrocampista, tra l'altro anche muscolare, che invece può essere molto utile per rimpompare il centrocampo. Sono d'accordo. E poi l'ultimo è Fabian. Anche lui... Va bene, abbiamo già parlato di Fabian. Sì, direi un po' troppo. Vediamo, tornerà Fabian. Dario Locke. I consigli sono tali proprio perché ognuno può scegliere se seguirli o no. Il vostro lavoro è straordinario, ma la gente dovrebbe capire che oltre allo studio c'è una componente che nessuno potrà mai conoscere, che è la sfera privata dei singoli giocatori. Finché vivrete, vi sosterrò. Nick e Samu alle... Oh, oh. Bello. Anche il coro finale. Un messaggio di Dario Locke e sono totalmente d'accordo. C'è la componente personale dei giocatori, c'è la componente degli allenatori. Ci sono un sacco di casi. Guarda che... Guarda che sfumatura che ti faccio. Sfumatura, bella. Daniel Ferrari. Ho tolto la difesa a quattro con modificatore con Di Marco, Dodò, Dorgu e Miranda, quindi un buonissimo mod, per andare a cercare la zuccata di Morten Tosby. Ci ho creduto più di te. Samu, sì, letteralmente sì. Ci hai creduto più di me. Danilo Capone. Dopo la tripletta di Moise possiamo riassumere tutto con una parola. Contesto. D'accordissimo con te, Nick. Ken Testo. Ken Testo, sì. Cambiata. Sì, credo sia super importante, al di là del meme. È fondamentale anche perché c'è anche la... Ecco, il contesto in questo caso si può percepire anche come dimensione calcistica. La dimensione calcistica di Ken, che si deve ritrovare, è molto più corretta a Firenze, in un momento di transizione, che è titolare nella Juve. Perché tanto titolare nella Juve, Ken, non è mai stato, ma perché non poteva diventarlo. Se tu hai il primo anno davanti Ronaldo e Mandzukic, poi ti prendono Vlaovic per tre anni e Vlaovic, è un po' come il Simeone che dopo i 16 gol a Verona va a Napoli, ma c'è o Simen. Come puoi pensare di poter diventare titolare lì? O Raspadori. In che modo Raspadori può diventare titolare fisso del Napoli con Kvara e adesso Lukaku? Sono anche delle scelte di alcuni giocatori che si ritrovano anche in squadre che fanno un mercato di un determinato tipo, che gli cambia il contesto e quindi devono cambiare dimensione. Ken che cambia dimensione? E qua i dati di prima. I dati di Ken sono sempre stati altissimi in produzione, ma anche in under performance. Tipo l'anno scorso ho fatto zero gol, sono pochi, no, è niente, l'ho zero, con un under performance di O2-1-2-7. È vero che zero è poco, però gli dati sono importanti. Entri nelle partite, perché le devi vedere. Ken ha fatto una partita straordinaria contro il Verona, l'anno scorso sono stati annullati due gol assurdi e tu fai due gol nell'anno e ti cambia un po' anche la parte emotiva? Oppure leggi la diversa, ancora un po' più profonda. Allegri a un certo punto ha tolto Vlaovic e per sette partite ha messo Ken. Vuol dire qualcosa, sia a sfavore di Vlaovic che a favore di Ken. E quindi quando la dimensione è quella giusta, la lettura può portarti anche a pensare che Ken faccia doppia cifra o che la faccia anche Belotti. Ci scrive Lorenzo Russo e dice due osservazioni. Uno, fate un cambio di vestiti tra sigla e inizio puntata degno di Arturo Brachetti. Siamo veloci, siamo bravi. Su quello obiettivamente ci siamo allenati davvero un sacco. Diciamo che noi il venerdì mattina, il sabato pomeriggio abbiamo un'ora e un'ora in cui continuiamo ad allenarci sul cambio di abbigliamento. Dove dire che tu sei ancora molto più avanti di me. Sì perché mi faccio anche la barba in quel secondo. Non è per niente semplice e ringraziamo lo staff che ci aiuta per mentre mi faccio la barba. Sì, in questo caso bravissimo Luca Tomasini. Sì, sì. Allora, abbiamo imparato questa cosa della sfumatura ed è eccezionale. Allora, due, non sarebbe male fare una lista dei migliori attaccanti. Non fanno Leao, Gudmund, Soncastro, Bonni e proprio Tankset e lascio costantemente fuori chi segna. Allora diciamo che in un mondo idilliaco uno potrebbe fare in post podcast una lista dei consigliati. Uno ci può anche pensare a una roba di sto tipo. Possiamo anche valutare. Chi la fa? Chi ha voglia di farla. No, però comunque ci la valutiamo. Allora, intanto ringraziamo Lorenzo e tutti voi ragazzi che ci state scrivendo per queste migliorie da fare. Continuate a farlo nei commenti perché ci sarà la chatteria anche la prossima settimana ovviamente. Simone Barba, la giornata non è nemmeno iniziata e considerando tutti i giocatori offensivi del Milan avete già rotto Morata. Vabbè, questo l'abbiamo letto anche prima. Abbiamo rotto Morata. Ma hai fatto male? Perché c'è l'acido l'artico. Mi dispiace per Morata perché l'abbiamo rotto noi. Mi sei fatto così male? Sai che con il discorso della sosta nazionale tagli completamente i ponti con il calcio. Giusto così. Morata, notizie. Attacco Morata il presente, il futuro è Camarda e gli altri. Ma sta bene, sicuramente torna. Allora, pensieri sulla vita, sono solo tre. Alice Campello splendida in... che significa? Paylettes. Le Paylettes. 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 Ah, Paylettes. Ah, quindi Alice Campello con Paylettes. Montecuartista. No, non è giocatore. Ah, no, non è. Senza Morata sorride con gli amici VIP. Tu pensi che l'ha dovuto scrivere questa... Questa è una rubrica nuova. Allora, pensieri sulla vita. Ci sei? Oh, vai. Tommy... Ma che stai facendo? Che stai facendo? No, ho sbagliato. Ah, no, è anche io. È finita. Allora, Tom Inisi, ho una domanda che va oltre il calcio e fantacalcio. Secondo voi il nostro scorrere del tempo, di noi gente normale, è uguale a quello di gente come Duric, Busquets, Peter Crouch e Giroud? No, no, no. È scientificamente provato che più sei vicino al centro della terra e più il tempo scorre o veloce o lento. Adesso non mi ricordo com'è, però più ti allontani più è diverso lo scorreo del tempo, dal centro della terra. Quindi, in sostanza, anche se per pochi millesimi di secondo, nella nostra vita, la nostra testa è o più giovane o più vecchia dei nostri piedi. Ok? Ma sono pochi centimetri. Carlo Rovelli, L'Ordine del Tempo, un libro spettacolare. Quindi, anche se si tratta comunque di pochi, di una decina di centimetri, noi saremo 10 centimetri più bassi di più, forse, 15? Di Juric? 20? No, a Juric non arriva i due metri. 15 centimetri. 10 centimetri, sì. E tu pensi che quindi la sua concezione del tempo sia diversa dalla nostra per soli 10 centimetri di altezza? Io credo che lui, quando vede la palla arrivare nel cross, la vede molto più lenta di tutti gli altri che sono passi dall'ansia. Allora, vi parlo di un mio sogno. Allora, io, con il fatto che, beh, comunque mi piace il calcio, però sono di livello basso. Generalmente basso. Cioè, se vado a giocare al campetto con i bambini di 12 anni, sono un fenomeno. A giocare a calcio sei di livello basso? Sì. Sono di livello abbastanza basso. Prego, continuo con la narrazione. Non è un problema? No, perché ha detto una cavolata, non è di livello basso. Si è spenta la lunga. Di livello infimo. Ti stiro un pugno in faccia, ci buttano fuori da questo posto. Allora, dicevo, livello basso. Perciò io, quando mi immagino di giocare in Serie A, mi immagino però come se avessi la capacità di rallentare il tempo in modo da, ok, tecnicamente non sono un fenomeno, però perlomeno posso fare la mia giocata se il tempo rallenta. Quindi tu dici che Duric ha questa capacità qua. Cioè, perché alla fine è inspiegabile, altrimenti il suo modo di dominare da un punto di vista aereo mettendo la palla al posto giusto nel momento giusto. Perché se te guardi la palla, come fai a vedere anche il compagno dove va? Tu dici che ha anche un'altra... Eh, per forza. Lui riesce a fermare il tempo. Non lo so, però nei sogni anche a me è capitato o di rigiocare partita che ho giocato o di giocare partita che avrei voluto giocare. Nei sogni mi capitano due cose differenti. O faccio delle partite clamorose, ma proprio dei gol che non hanno senso contro la questione fisica, oppure mi sento in... non riesco a muovermi. Mi arriva un passaggio semplice da controllare. Sei bloccato. Madonna che rabbia. Lo so, io mi sento così quando gioco per davvero. Eh sì, sì, ti ho visto. Andrea Micheli, ma secondo voi in percentuale quanto conta la fortuna, edulcorato il messaggio, e quanto la tecnica nella vittoria di un fanta allenatore al fanta per me... Ha detto culo. Sì, per me 76.5% culo e 23.5% tecnica. Secondo te sono giuste le percentuali? 76.5% di culo e 23.5% di tecnica. Non diciamo culo. Ok. Secondo noi ci siamo. Hermes... Ma la domanda su cos'è? La domanda è, conta più la fortuna o la tecnica? Ma in cosa? Al fanta. Cos'è il controllo di conto di più? Dipende dalla regola. Infatti nella mia lega quest'anno c'è sia la classica classifica a scontri diretti... E quella a punteggio. Poi c'è il ranking, poi ci sono tante altre competizioni, competizioni che hanno l'obiettivo di ridurre tantissimo l'influenza che il calendario ha sul fanta. Giusto. Bello. Su cui non ci puoi niente. Poi ci sono anche degli accorgimenti sempre regolamentari che ti permettono di abbattere il fattore fortuna. Una volta ho partecipato a un fanta, di cui adesso non ricordo il nome, ma era un fanta sempre organizzato, tipo una community che faceva esclusivamente quello, che... Cioè, tantissimi partecipanti. Tu ogni giornata giochi otto partite. Ci sei? Sì. Schieri la formazione e hai otto avversari contro cui giochi. Otto avversari. Fai finta che ne vinci due, ne perdi quattro, due, quattro, sei, ne pareggi due. Quindi tu hai fatto. Quante ne vinte? Due? Tre punti per vittoria? Tre per due, sei. Ne pareggiate quattro? Quattro punti? Quattro. Sei più quattro, dieci. E quello è il tuo punteggio di giornata. Dieci. In questo modo, proprio perché tu generalmente ti può capitare di fare cinque gol una giornata, ma di perdere contro quelli che ne ha fatti sette e avresti vinto contro tutti gli altri, è un po' modo per dirti, ok, tu magari perdi quelle due, perché hai fatto quattro gol, anzi tre gol, e hai perso contro chi ne ha fatti quattro e cinque, però hai vinto contro chi ne ha fatti due, uno o zero, e con gli altri magari hai pareggiato. Ed è un modo per abbattere il fattore fortuna. È molto interessante. Ci vogliono... Perché non fare direttamente punteggio, allora? Cioè, totale. Perché non fare direttamente punteggio? Non ci sono in quel caso gli scontri diretti, un po' più brutto. Eh sì, gli scontri diretti rendono tutto un po' più divertente. Ci devo pensare, però, perché non fare soltanto punteggio? Hermes 9587. Ho appena registrato un video podcast calcistico, a parte metterci passione e una continua ricerca di dati e qualità, cosa consigliereste a un neofita del settore? Questa secondo me è la domanda più bella. Cosa consiglieremmo a un nuovo podcaster barra youtuber, diciamo così, calcio e Fanta? Posizionati in una nicchia. E poi espandi. Beh, la nicchia in quel caso è quella di calcio e Fanta, che però comunque è già strapiena. La nicchia non è necessariamente l'argomento, ma anche il modo in cui lo tratti. Ok. Ok, esempio, ci sono tantissimi podcast di interviste. Basement di Gazzoli è un podcast di interviste. One More Time è un podcast di interviste. Diverse. Lele Adani è andato sia a Basement che a One More Time. Però tu quando va al Basement sai che farà un percorso narrativo. Quando va a One More Time sai che è tutt'altro, sempre la stessa persona, ma è tutt'altro percorso. Perché comunque io credo che ci debba essere una coerenza nella linea che scegli per andare a realizzare un podcast. La nostra linea, ad esempio, è ovviamente Fanta, perché parliamo di quello, ma sono i valori che poi ci definiscono puntata per puntata. Io credo che possa essere riconoscibile il nostro episodio perché siamo un po' dei cazzoni delle volte. Ci mettiamo ironia e leggerezza, poi ci mettiamo i dati a servizio del Fanta. È un podcast sul Fanta, ma è un podcast di questo tipo sul Fanta. Quindi il consiglio che ti do è in che cosa sei bravo, sfrutta quella roba lì per trovare la tua linea all'interno del podcast e poi portala avanti. Sempre. Quando non ti va, fallo. Quando non ti va per niente, fallo ancora. Costanza. Maestro. A lui. Ti è piaciuta questa? Come ha fatto a fare questa cosa? Che bravo sei. Molto bravo. No, però devo dire che questo è stato il frutto di questo mio pensiero che ormai è radicato nella mia testa. È frutto di tante conversazioni che abbiamo fatto proprio sul nostro prodotto, volta per volta. Perché due palle, che il nostro, questo non bippiamo perché è virgolette, che è il nome del nostro primo podcast sul Fanta, nasce con l'idea di vogliamo fare un podcast sul calcio. Ma chi ci ascolta sul calcio? Perché dovrebbero ascoltarci? Non siamo credibili, non siamo autorevoli, non siamo nessuno, nessuno giustamente vuole sentire la nostra opinione. Però se l'applichiamo al Fanta e ci mettiamo un po' di... Forse l'ironia e la leggerezza non volevamo neanche mettercela, ci siamo ritrovati. Ma no, sì, sì, sì. Se l'applichiamo al Fanta che invece era un po' più leggero, più facile ad avvicinarti a due ragazzi. Più utile, più utile alle persone. E quello è stato anche un discorso che ci ha trainato durante gli anni. Cercare di essere utili alle persone. Sì, bravo. Secondo me quella unita a essere te stesso nel modo in cui vuoi comunicare sono due cose importanti. Pensare proprio all'utilità delle altre persone. Perché, chiediti, perché dovrebbero ascoltarti? Se la risposta non c'è un motivo, continua a cercare. Fenomeni paranormali. Chi sono i fenomeni paranormali? Sono quei Fanta allenatori bravi al Fanta, a quanto pare, ma in maniera strana. Cioè, come è possibile che siano bravi? Adesso vi spiego. Francesco Molineris. Raga, sto vincendo il Fanta con attacco Pinamonti, Poyampalo e Dia. Ho appena battuto quello che ha Vlaovic e Leao. Lui è un fenomeno paranormale. Cioè, non è normale che abbia battuto quello con Vlaovic e Leao, con Pinamonti, Poyampalo e Dia. È un Fanta strano ancora, in cui i migliori sono Riteghi, Ken, Vlaovic, Lautaro, Leao, tutti gli altri. Adività li stiamo praticamente ancora aspettando. Questo cosa ci insegna? Ada Feralp ci dice, io in una Lega 12 mi trovo in quarta posizione, nonostante i crociati di Zapata e Bremer, grazie al magico tridente, appunto, Ken, piccoli, Beltrane. Cioè, lui, due attaccanti della Fiorentina. Sarebbe stato lo sconsiglio madre, proprio non prendere due attaccanti della Fiorentina. E invece, Ken, piccoli, Beltrane. Ma può durare? Cioè, nel senso, mi stavo chiedendo questa cosa. Questo è un tema. Ken e Riteghi sono i migliori per colattesi tutt'ora. Quindi non sono, sono in over performance, hanno segnato anche di più dei colattesi. Però sono comunque i primi. Quindi vuol dire che Atalanta e Fiorentina sono state le migliori squadre a mettere in porto i propri attaccanti. E loro due sono stati bravi a crearsi le occasioni. Perciò, quando mi chiedono, ma che faccio? Ken o Lautaro? Ken o Lukaku? Riteghi o Kvaraskega? Riteghi o... Io al momento faccio fatica a dire Riteghi e Ken dateli via. Perché hanno una tonnellata di occasioni. Io continuo a preferirli su tutti adesso Riteghi e Ken. E' tosta. Diamo un argomento tosta. Che argomento? Sì. Però io credo che Lautaro farà molti più gol di quelli fatti 5-12 partite. Non ci posso pensare che Lautaro titolare senza problemi fisici chiuda meno di 15. E quindi che ne faccia da adesso in poi meno di 10. Posso pensare che Ken ne faccia da adesso in poi meno di 10. Perché ne ha già fatti. Però questo su me è quasi un... Non perché magari... Capisco il ragionamento però non è logico. Cioè è semplicemente... È logico perché devi applicarlo alle partite. Io difensore adesso che incontro Ken non incontro più quello che non segnava. Incontro quello che ha fatto 9 gol. E io non voglio farlo segnare. E' una questione di chi incontro, la personalità di quello che incontro. Ken sta diventando... Più si parla di Ken, più le squadre adatteranno il proprio piano gara difensivo su Ken. Quindi più sarà complicato. Lautaro questa cosa la vive da anni. Per questo credo che i prossimi 10 di Lautaro sono più frequenti, più probabili dei prossimi 10 di Ken. Oh, campo della soggettività. Sì. Sono... Quindi tu comunque Ken reteghi, se tu hai Ken, ti chiedono e ti danno Lautaro, Turam, Lukaku, Vlaovic, Leao. Su Leao è un po' diverso. Ok. Sì, su Leao è un po' diverso. Poi a palo, Bonni. Ok, io sono quarto nel mantra 10 con poi a palo, Bonni, due punte. E andrò a premi, non c'è dubbio. Tengstead non ce l'ho. Perché ho Krustovic e Luvumbo come seconde linee, che non metterò mai. Giudici? Non ce l'ho. E non ho quanti ne dovevo prendere, ne ho presi cinque. Questi quattro è Moschera. Quindi te continui a preferire i big che sono mancati rispetto a Ken reteghi. No, rispetto a reteghi no. Eh, rispetto a reteghi, forse il top reteghi è un'altra... Nonostante sia già 11, quanto arriva a reteghi? Perché reteghi calcia i rigori. Ricordiamoci che l'attaccante forte, 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 anche al Fanta, deve battere i rigori. Perché tutti gli attaccanti vivono il momento in cui ti assesti, in cui ti studiano, in cui non sei in forma. Dopo anni che abbiamo detto di rigori è una roba, oggi, stamani ti nasci così. No, io dico che prendere Cialanoglu soltanto, acquistare Ciala al 10% solo per i rigori no. Abbiamo capito. Ma gli attaccanti che hanno i rigori sono quegli attaccanti che nel periodo di tre settimane in cui non vedono la porta, la porta la vedono così. Se lo sbagliano? È finita. Fa portare il gioco. Non prendi Lautaro rigorista perché non è molto bravo, infatti li calcia Ciala. Ma prendi Dujan che ha delle buone percentuali, Lukaku che ha delle ottime percentuali. Bonni che è molto bravo, nonostante l'altro rigore sbagliato contro Lempoli. Bonni ha 4, Lautaro ha 5. Cristian dice, io lo dico ora prima che inizi la giornata. Lascia in panca Turam per mettere il football Banda contro Lempoli. Sai il voto di Turam contro il Napoli? Quanto ha preso? 5 e mezzo. Sai il voto di Banda? 6. Giocatona. Giocatona di Cristian. Allora, Aldo Rodio l'ho messo in un toggle perché il suo messaggio è lunghissimo. Too much. Però Aldo, ti rispondiamo in privato. Ti scriviamo sui... Sì, ma qual è il tema? Sai che non lo ricordo? È la sua storia fantacalcistica, per caso? No, è carina perché lui ha usato i biechi trucchetti. Ah, anche nel nostro episodio di luglio. La leggiamo al volo. Vai, sì. Ti metto in per due però, vai. E se vi dicessi che usando i biechi trucchetti sono riuscito a fare una squadra in cui ho sia su lei che zapati in attacco, ma sono quello che ha fatto più punti in stagione? Sembra un reel. Come primo step, ho proposto e fatto accettare ai miei compagni d'asta un aumento del modificatore difese, in modo tale da drenare i loro crediti in apertura d'asta. Quindi lui ha detto, diamo più punti al modificatore così che gli altri spendono di più sul modificatore e invece io lo ignoro il modificatore. Secondo step, che necessitava più preparazione. Ho passato un'estate a sottolineare quanto facessero schifo i centrocampisti quest'anno e infatti tutti i top sono stati pagati intorno ai 200 su 1000. Che vuol dire? Questa mi manda in confusione. Però praticamente anche i centrocampisti sono stati pagati tanto. Aspetta, fai in percentuale. 200 su 1000 sono il 20%. Tanto, 100 su 500. Eh, tumaccio. Quindi sì, perciò gli altri sono stati pagati tanto. Quindi lui in poche parole ha risparmiato sia su difesa che attacco. Ah, sì, è arrivato l'attacco. Lavoro finale arriva l'attacco da terzo chip leader, comunque. Prendo subito di A a 58 e Beltrano a 5. Quindi lui si porta a casa subito due attaccanti su 1000. Poi offro solo per alzare gli altri. Alla fine lui dice, si fanno prendere un po' tutti dal panico. Vanno via tantissimo sia i top che i semi top. Lui mantiene la calma perché aveva pronto una lista con i nomi da cancellare, bla bla bla. Mi affaccio sul pc del banditore per vedere la situazione totale dei crediti. A me ne rimanevano più di 500, agli altri nulla. Il secondo con più crediti ne aveva 109. Morale della favola, prendo Morata, Reteghi, Sule e Zapata. Tutti a 110. Perché però è andata malissimo comunque. Beh dai, no, ha preso Reteghi, dia. Sì, ho capito, però poi sugli altri 110 avrei preso Morata, che non sta segnando niente. Sule, Zapata, Rotti. Ma guarda la... Non adesso, guarda la settembre, l'agosto. Ha fatto una bella... Quindi l'ha risparmiato sugli altri ruoli. Però tipo, è il classico caso di ho così tanti soldi, che poi devo prendere tanti attaccanti forti e poi chi metto? È un macello. Vabbè. Per fortuna ti si è rotto Zapata. No. Per tua fortuna. Franceba. Preso Goglicizzi in un Fantaotto, mi diedero del folle. Questa è un'altra gran giocata. Passiamo alla rubrica Lacrime e Singhiozzi. Alza. Cristian Ronco. Ciao, sono ultimo col miglior punteggio. Avete blasfeme più originali da tirare perché quelle classiche l'ho già tirate tutte? Grazie. Potresti provare a dire... Fabrizio Gobbo. Io ho preso Teremi per il turnover per la Champions, invece gioca sempre in Champions e mai in campionato senza parole. Questa cosa smettiamo di farla perché è deleteria. Deleteria, sì. Prendiamo solo quelli senza coppe. Prendiamo solo quelli senza coppe. Sai che serenità, che vita. Ti prendi tutto il Napoli quest'anno. Che altro c'è di squadra che sta andando bene senza coppe? Nessuna. No, il Napoli. Saresti ultimo. Anche perché il Napoli ha il settimo attacco del campionato. Quindi neanche il Napoli. Neanche troppo bene. Però, sì, su Teremi sei stato sfortunato, ma io credo che nel momento in cui l'Inter arriva ai play-off, oppure va avanti già direttamente gli ottavi, le cose cambiano. Quindi Teremi gioca in campionato e Lautaro Turam giocano in Champions. Da febbraio in poi. Sta a fare. Mi sa che forse ho premuto un tasso delle cuffie e mi hanno fatto tutto bene. Garda. Hai cambiato musica. Che c'è adesso? Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Garda 3378. Questo è paranormale davvero. Allora, Tridente, Lucman, Castellanos, Ken. Aspetta, come faccio l'abbassare? Perché mi risento troppo forte. Di questo amore noi saremo gli angeli. No, ma sei te che cagli. No, è uguale. Tridente, Lucman, Castellanos, Ken. Sono quarto perché ovviamente segnano solo quando il mio avversario fa zero gol. Cioè, questo è quarto con Lucman, Castellanos, Ken. Vuol dire che veramente non hai speranze. Ti sei giocato tutti i bonus e sei rimasto quarto. Sì, a questo punto ti dico, l'anno prossimo per piacere fai anche la classifica ranking. Quindi consigli con tutti i punteggi, per forza. Elia domanda, Gasperini riuscirebbe a trasformare pure da linga suono bolognese? La risposta è sì. La risposta è dipende da quanta voglia Gasperini di lavorare sul singolo. La risposta dipende da quanta voglia il singolo di darsi totalmente a Gasperini. Facciamo l'esempio di Zaniolo fin qui. O di Scamacca l'anno scorso, fino a marzo. Fino a marzo, Scamacca aveva capito che doveva fare come voleva Gasperini. Poi l'ha capito e ha fatto 200 gol. Zaniolo, abbiamo visto nell'ultima partita quando Gasperini si arrabbia contro lui e gli dice lotta, lotta. Perché Zaniolo ha perso un duello contro un difensore dell'Udinese. E quindi Gasperi non si capacita del perché Zaniolo non lotti. Neanche io, ancora. Però dai, deve entrarvi in testa. Adesso gli entra il testa. Parliamo di calcio. Tre litri. Contra tre litri. Grandi raga. Ma dove possiamo trovare noi comuni mortali tutte queste statistiche che portate ogni volta? Non dico di volermi tenere aggiornato ogni settimana sugli expected cross fermati dai portieri. Ma mi piacerebbe avere uno strumento per usare sul pezzo. Grazie in anticipo. Come dicevo anche a Nick prima, sarebbe bello fare un bel contenuto ciccioso su come analizzare le statistiche, dove trovarle, eccetera, eccetera. Per cui possiamo, io dico, semplicemente, voglio dire semplicemente i siti che utilizzo io e che possono essere utili se ci smanettate un po' per capire come funzionano. Sicuramente fbref.com è la base, secondo me, da cui nascono tanti i miei contenuti, perché lì puoi vedere tutto sulla serie A. Veramente puoi vedere anche i cross fermati dai portieri, però puoi anche vedere soltanto le cose più basic. Understat è quello su solo XG, NPXG, XG da piazzato, tutto l'altro, XG qualcosa. Generalmente PPDA. PPDA sta lì. PPDA sta lì. Se volete PPDA. È un'esclusiva. No, non è un'esclusiva però. No, è l'unico provider statistico gratuito che te lo dà. Poi ci sono un paio di siti che, secondo me, a volte vanno presi un po' con le pinze da un punto di vista statistico, perché magari possono essere meno accurati, perciò bisogna stare attenti a vedere effettivamente che tipo di dato è, in quante partite è calcolato, che sono data MB, a volte ho trovato dei dati sbagliati, però comunque sia generalmente vanno bene. E l'altro è sottovalutato, Mcluck App. Hai visto? Secondo me quello sarebbe molto molto carino anche per analizzare la singola partita, ci sono le mappe di pressing, ci sono anche le mappe di passaggi. Anche lì a volte ho trovato delle scorrettezze. C'era una partita in cui tipo nessuno aveva passato palla a Pulisic, ma non è reale. Quindi a volte ci sono delle scorrettezze, ma se le notate sicuramente evitate di valutare quello. Questi sono due, quattro siti un po' più grafico, un po' più statistico, che personalmente utilizzo nel giorno per giorno. Sulla singola partita anche Sofascore è molto utile, secondo me. Ci sono le hitmap, ci sono le posizioni medie, sono carine. Non per i confronti, perché i confronti statistici FB Ref è uno spettacolo. In realtà per le statistiche della singola gara anche FB Ref va bene, ma te le caricano il giorno dopo, con il match report, mentre Sofascore sono in diretta. Sofascore è meglio graficamente, sono più semplici da capire, mentre FB Ref tra tutte, per il glossario, per la leggenda, è difficile. Sofascore comunque si... Ci vuole, bisogna un po' smanettare, però questi sono anche quelli che utilizzo io generalmente. Più quelli a pagamento. Stated e pagamento di FB Ref.com. Sì, e Wisecout per vedere le partite. Dove ho visto Pubigli dell'Almeria che doveva venire l'Atalanta quest'anno, lì, Mark Winski, dove l'ho visto solo lì, perché in campo a Lecce non lo vedi. Vero. Se volete vedere i partiti di Mark Winski. Wisecout. Usate Wisecout. Domenico, so... No, però aspetta, Wisecout costa migliaia e migliaia, quindi facciamo finta che non esista... Non è consiglio per provider statistici gratuiti. Dai, mettiamola così. Magari tre litri... Contro tre litri. No, tre litri vorrei spenderci tutti quei soldi. Quando lo diciamo che Pasali c'è un primo slot, credo sia il terzo centrocampista per XG, il terzo in Atalanta. È stato in seconda posizione per parecchie settimane. E questa è la parte del messaggio che non ci interessa che era anche perché, tutto il bene, ma ne abbiamo già parlato prima, caro Domenico, ci interessa questa. Poi dico, Aps ha creato 1.0 XG, non starà per segnare? Certo, assolutamente sì. Hai visto Venezia-Parma, con quel 3-2-5 contro il 4-4-2 del Parma in fase difensiva, come Aps aveva libertà, ogni volta libero, di ottenere palla al vertice dell'area di rigore per poi calciare. Da posizione complicata, sì, ho capito, però comunque ci sta provando Aps. Arrivederciano Aps rispetto a tutti i fullbacks d'Europa, fa meglio del 93% dei terzini, però vedi, è comunque un tiro ogni 90 minuti. Però 2.2 tocchi nel reversale, è meglio dell'87% dei pari ruolo. Sta giocando, sì, però un XG è poco. Un XG in 600 minuti non è tanta roba. Capito, è un terzino del Venezia. È un quarto di centrocampo che si chiama un quinti a Coverciano. Ma lui ha detto un gol, mica 100. Ah, un gol può farlo. Lui sì, Martin no. Parliamo di fantacalcio. Di fantacalcio. Matro Mentali ti dice, complimenti per la solita bella puntata, vi ascolto sempre volentieri al lavoro. Queste cose mi fanno sempre ridere. Sì, sì, mi fa ridere. L'altro giorno c'è stato un ragazzo che stava ascoltando OnlyFanta. Ah, sì, ce l'ho. Stava ascoltando OnlyFanta. Stavamo parlando del percorso evolutivo di Anyatwork che diventa Ocaforo che diventa qualcos'altro. Sì, sì, sì. E ha detto che era lavoro che è scoppiato a ridere da solo in una stanza vuota. Cioè, nel senso, stanza silenziosa. Tante altre persone. Allora, non so se il problema siamo noi che facciamo troppo ridere, non credo. No. Onestamente no. Oppure siete voi che ci ascoltate al lavoro. Sì, forse il problema è il secondo. Detto questo, volevo lasciarvi un paio di commenti per la puntata speciale. Sì, quello sì. Ho scambiato Morata e Ferguson per Adams e Colpani. Il quesito è il seguente. Ho fatto una cavolata? No, no. Hai fatto una cavolata. Ha preso Adams e Colpani. Tu avresti tenuto Morata e Ferguson. Sì, sì, sì. Con l'infortunio di Zapata, chi può essere un buon sostituto da prendere durante l'asta di gennaio? Quindi attaccanti che non sono stati presi, ma che stanno giocando e stanno... Alla mente di tutti viene subito Balotelli, che però sarà pagato più di Lautaro d'estate. L'inverno Balotelli. E quindi no. Domanda complicata. Sono pochi. C'è forse Pellegri dell'Empoli. C'è forse Beltran a Firenze, anche se quando torna Godmusson giocherà meno. Però anche Pellegri, me lo immagino, titolare da qui a fine anno. No, perché ci sono comunque Sposito e Colombo. C'è Pedro per la Lazio. Quindi sono le squadre che possono acquistare, che devono acquistare attaccanti. Torino forse, per Zapata fuori a lungo. Torino deve acquistare un attaccante. Potresti puntare su un Davis dell'Udinese, che ogni tanto gioca. Davis non male, comunque. Potresti puntare su Benedicciac, che è appena tornato. Sì, però anche lì è fastidioso per Bonni. No, ma beh, Bonni gioca per forza. L'hai visto anche l'altro giorno, non gioca, entra e fa gol, deve giocare per forza. Ho capito, Bonni è stato entrato dopo Charpentier. E ha segnato a porta vuota. Non lo so. Calma, comunque, ho paura. Io sono fanta allenatore di Bonni. Sono fanta allenatore di Bonni. Non sto dicendo che... Sai che per queste cose io mi... Smetti la porra. Però, quello che sto dicendo di Bonni, comunque sia, se prendi Benedicciac non è detto che sia un titolare fisso. Nessuno adesso, secondo me, da prendere a gennaio, può dire, ah, è un titolare che è stato ignorato. Magari Esposito non è stato preso nelle vostre leghe. Eh, sì, è vero, è vero. Sarebbe una bella presa. Sì, però il criterio deve essere quello della titolarità, anche in una squadra di livello un po' più basso. Eh, ma non ce l'hai. Perché se ce l'hai, magari non fantaotto. Fils... Banda. Banda. Ragazzi, vi prego, datemi una speranza e ditemi che Fabian farà almeno tre gol in campionato. Mi sta uccidendo da dentro. Mi farà tre gol in campionato? Sì, mi sento di dirlo. Sì, mi sento di dirlo. Anche io sarei curioso di capire, sono curioso di capire, quale sarà il percorso del Bologna, perché, ammesso che è difficile che si qualifichi per i play-off della Champions, e, visto e considerato che Ndoi, Orsolini e Castro sono, a quanto pare, i titolari, lì in avanti li sta mettendo effettivamente sempre, ogni tanto vediamo altri, però non è una rotazione continua. E visto che è tornato Ferguson, e visto che Freuler gioca, diventa un 4-3-3 con Freuler vertice basso, e Ferguson e Fabian mezziali, sarebbe bello, perché Ferguson è un po' più completo, mentre Fabian è una sorta di frattesi, uno che in costruzione te lo lasci lì pure, senza problemi, e puoi giocare con due centricampisti come Ferguson e Freuler. Vediamo. Onestamente è un peccato, però vedere poco Fabian. Ci sta comunque a 21 anni. Giorgio Eboli. Ragazzi, la butto lì, secondo voi Neres può essere il nuovo Lindstrom? No. Io ci ho puntato a Forti non mantra 10, ma ultimamente ho anche smesso di schierarlo. Se va bene fa 15 minuti, ogni tanto non vede neanche il campo. Peccato, perché qualche giornata fa avrei anche potuto scambiarlo, ma ormai non me lo prende più nessuno. Perché dici che non sarà il nuovo Lindstrom? No, perché, a parte che ha già fatto molto meglio di quanto abbia fatto Lindstrom, l'anno scorso in tutta la stagione. Mettiamo Neres da ora in poi, il nuovo Lindstrom. Assolutamente no, perché il contesto è buono. Mentre l'anno scorso c'era una confusione totale, tale per cui Lindstrom non poteva diventare titolare, perché non si capiva niente. Napoli l'anno scorso ha avuto Garcia, ma ha dato via male dopo Napoli-Empoli, anche per questioni ambientali, con il rapporto con De Laurentiis, che poi è venuta fuori. Poi ha avuto Mazzari-Napoli, e ovviamente in campo non c'erano Amsic-Cavani-Lavezzi, quindi non andava bene. E poi ha avuto Calzona, come ultimo traghettatore. Era impossibile per Lindstrom. Sono d'accordo. Neres però da un punto di vista tattico, ha partita in corso e basta con il Napoli. Partite più semplici in casa, può giocarle dall'inizio, come è successo a Napoli-Lecce, ad esempio, no, anche a destra. Sì, ho capito, a destra, però il Napoli sta difendendo 5-3-2, anche contro le piccole, se serve. Contro l'Inter ha difeso a 4, accettando uno contro uno, eccetera, eccetera. Quindi se questa cosa vuole portare avanti Conte, e ci sta, è perché Napoli difensivamente sta andando bene, offensivamente no, perché è la decima squadra per produzione e settima per Golfatti. Ci sta che cambi qualcosa. Il qualcosa possono essere le uscite, quindi essere più aggressivi uomo su uomo, oppure dei singoli. E l'unico che posso pensare che possa perdere il posto è Politano con Neres, che le due mezziali, no, McTominion chissà. Lobotka è rientrato, e gioca Lobotka, la differenza con Gilmour, e Abissale, e i quattro dietro sono quelli. Quindi forse è l'unico tassello che può essere in bilico. Non è il nuovo Lindstrom. Sono d'accordo con te, era per fare l'avvocato del diavolo. Lindstrom per me non è un cattivo giocatore come è sembrato a Napoli, così come non lo è in Gong, perché in Gong a Verona era un dominatore per quello che è il contesto Verona. Però anche Simeone a Verona ha fatto 16 gol, e adesso fa fatica. Era Spadori, a Sassuolo ne fa 10, e adesso fa fatica. Non è semplice per un giocatore trovare il contesto giusto in cui esprimersi, è difficile. Senza coppe, e quindi con meno turno verde da fare e meno partire da titolare. Però sì, sono d'accordo anche io su Neres. A esempio, Napoli fa l'Europa League quest'anno, Simeone gioca spesso in Europa League, è probabile che Simeone faccia una stagione da doppia cifra complessiva con 3-4 gol in campionato e 5-6 in Europa League arrivando magari fino ai quarti in Napoli. Così invece è complicato perché devi giocare 10 minuti per partita e lo sta facendo anche molto bene per quelli che sono i minuti a disposizione, perché mi sembra un ragazzo molto positivo. Anch'io ad esempio gioco nel Napoli ma senza coppe non ho mai spazio per entrare. Però io ti vedo scaldarti ogni tanto. Ogni tanto si può giocare purtroppo quest'anno no. Valerio Colombo dice contando che saremo a metà novembre dopo la sosta la situazione... E basta, scusate, ho ripreso un'altra domanda su Fabian perché le ho messe lì adesso. Dice, ma perché dice oppure si può iniziare a valutare uno scambio svincolo? No, io non lo svincolerei anche perché poi magari dopo quando il Bologna non avrà più le coppe Fabian gioca un po' più in pianta stabile in campionato. Ma il problema Fabian si pone solo ed esclusivamente se tu l'hai pagato troppo. Perché se tu l'hai pagato intorno al 3,5% che era la giusta cifra per Fabian quindi 18 crediti su 500 ci sta che un giocatore non ti vada bene a 18 crediti su 500. E poi comunque siamo a un terzo del campionato. Se invece Fabian l'hai pagato 35 il problema sta lì. Se invece Neres l'hai pagato 50 il problema sta lì. Secondo me. Carmine Paparo. Ciao Carmine. Aiutatemi, cosa faccio con Biraghi, Tomori e Loftus? Già una volta giocato in 10 per colpa loro. Allora, cosa fare? Dipende sempre. Cosa vuol dire questa domanda? Ce lo potete scambiare? Potete addirittura già svincolarli questi giocatori? Facciamo così. Che ne pensiamo della stagione di questi tre giocatori da adesso in poi? Biraghi con la Fiorentina che gioca in questo modo e Gosens che non si sposta non è un titolare al momento. Un giocatore scambiabile svincolabile anche se fantacalcisticamente a me non è mai dispiaciuto. Anzi, l'anno scorso se non andavo a vedere gli assist attesi era tra i primi però poi non concretizzati dai compagni quindi comunque era uno che crossava crossava, crossava perciò aveva senso prenderlo quest'anno però Gosens non lo toglie. Non è possibile toglierlo. Palladino aveva lavorato sul 3-4-2-1 con Biraghi terzo e Gosens largo inizialmente Parisi però Gosens largo così sarebbe stato bello però poi ha cambiato tutto. Sembra aver cambiato quindi Biraghi gioca solo in conference per il momento. Questa è la situazione tu mori io non farei niente per ora con tu mori. I tu mori non può non giocare da lungo andare non può non giocare perché il Milano ha bisogno di difensori che adesso lo dico dopo questo periodo sono un po' più attenti di Pavlovice e Ciao insieme detto che non è neanche un problema di singoli ma di struttura e adesso il Milano gioca a 5 di principi difensivi perché alcuni lavorano con riferimento zona Pavlovice invece è abituato a distruggere la linea oltre ai concetti che sa e l'ha detto anche Fonseca in conferenza stampa post milano-udinese non tutti condividono lo stesso principio che è una bella cosa invece che ha detto Tiago Motta post Juve Toro sto lavorando affinché i ragazzi si riconoscano in degli ideali in dei principi nei valori tutti uguali ha detto Manuel e Copp giocano un calcio diverso ancora perché uno è abituato al calcio di Allegri l'altro a calcio di Gasperini sono cose agli antipodi però il lavoro dell'allenatore deve essere volto proprio a cercare di creare unione di intenti proprio intenti io voglio giocare il calcio in quel modo lì e con me tutti gli altri dieci e so che gli altri dieci lo condividono è complicato sulla Juventus so che succederà sul Milan è veramente più difficile però sì sul discorso Tomori sicuramente adesso non c'è da fare niente al massimo se lo vuoi scambiare devi aspettare che il suo valore si alzi anche un po' sì Tomori mannaggia Claudio che me l'ha fatto prendere lo stesso discorso sull'off to cheek io almeno a gennaio aspetto e poi magari vedi da qui a gennaio non gioca hai bisogno di un titolare hai bisogno di riprenderci i crediti sì facci un pensierino concludiamo con Giovanni Aiuto Giovanni Aiuto per una domanda sul Fanta è perfetta banalmente potrebbe essere anche lui che dà consigli sul Fanta se vuoi aprire un podcast tu puoi farlo tranquillamente sì perfetto Fanta classico a 10 avevo zapata come top più di Ketelar e Ebran preso a 1 con credito ero molto fiero del mio attacco cosa posso fare a gennaio per sostituire Duvan Balotelli con una faccina così devi farti vedere meglio perché è il microfono davanti la classica due punti con la bocca storta come dire non la so fare è difficilissima dovrei avere una bocca totalmente mobile in diagonale non ce l'ho spero si sia capita la faccina è ora non ce la faccio a farvela vedere perché non posso zoomare però è quella lì quindi è due punti e la bar slash ci siamo più o meno capiti qual è la faccina che sopporti meno che sopporto meno vabbè la faccina che mi fa paura è quella risata occhi normali risata e occhi tondi normali è presente quello mi fa proprio paura l'occhiolino ti piace? l'occhiolino no mi sembra un po' che mi vada nel mio spazio vitale un po' cattoling tu mi dici Nick ci vediamo dopo alle 10 occhiolino no io ti giro soltanto il pollice come la percepisci? un po' freddo forse non hai troppa voglia di venire sì oppure ho più di 42 anni anche sì io però interpreto più la discussione non hai voglia faccina preferita sono le faccine commosse adesso quella nuova dell'ultimo aggiornamento il nuovo è sempre meglio sì quella adesso mi ci stava comunque Ballotelli sì no per noi editorialmente voglio una scelta editoriale per me è no raga io magari fa 5 gol e sono contento per lui anzi dopo il mio no segna sicuro segna almeno 5 però io Samuele non ci investirò in Ballotelli per una questione di prezzo si parla solo di Ballotelli a gennaio viene pagato più di veramente di Lautaro e Tempi d'Oro cioè quest'estate adesso e quindi Ballotelli viene pagato secondo me troppo anche perché è Ballotelli quindi si porta un nome molto importante il Geno è una squadra che crea poco che produce poco quindi io credo che ci sia un'opzione migliore Mario non gioca da tra Ballotelli Esposito io prendo Esposito anche io finita la puntata una puntata specialmente sono divertito sono sincero spero sia stata piacevole lo sai che cosa mi mancherà un sacco questa batteria qua insomma dobbiamo utilizzarla più spesso lo facciamo alla fine come ultima nota ci salutiamo poi mettiamo una musichetta ok nel frattempo ce ne andiamo nel frattempo ci alziamo e ce ne andiamo allora dicevamo se vi è piaciuta scrivetecelo nei commenti basta sti commenti no no scrivetecelo perché a meno capiamo abbiamo un feedback e poi commentate per la chatteria della prossima settimana torneremo con i consigli giovedì della formazione in quanto c'è da dire senti nulla insomma ci siamo vuoi scegliere il tuo preferito per leggere il ah sì sì scegliamo non è una non è una preferenza vedi Attilio dice si è fatta una certa vi ricordo 8 e 30 giovedì prossimo 20 e 30 giovedì prossimo a Miyoshi da Gianni che poi non è Gianni ma cioè si chiama Gianni lui però capirete insomma allora un saluto da Giovanni Aiuto eh no lo volevo scegliere uffa un saluto da Giovanni Aiuto eh no ce l'ho io ce l'ho io no aspetta non si un saluto quindi da Giovanni Aiuto e 3 litri contro 3 litri un saluto da Giovanni che un saluto da Giovanni Grazie a tutti.